Dove noi attualmente abbiamo dei problemi dal punto di vista delle trattative sono dovuti alla legge 240, quella che sta riformando attualmente gli statuti. Questo ci crea alcuni problemi perché la legge ha ridotto per esempio molto le rappresentanze sindacali negli organi di governo. Ci stiamo battendo, ci siamo riusciti in maniera abbastanza forte per poter mantenere una nostra presenza e per poter dire la nostra in tutte le occasioni.